Previsioni in meteo 8-10 giugno, miglioramento generale, temperature di nuovo in aumento. Dopo l'instabilità dei giorni scorsi la pressione tende ad aumentare, avremo sempre meno precipitazioni sul Vicentino, le temperature tenderanno a salire grazie ad un maggiore soleggiamento. Martedì, ultime nubi in mattinata su ovest Vicentino, ampi rasserenamenti nel pomeriggio, formazioni di nubi cumuliformi lungo le prealpi con bassa probabilità di locali rovesci in pianura, il cielo rimarrà sereno, poco rungoloso, temperature in lieve aumento, estremi tra 16 e 28 gradi. Mercoledì cielo sereno la mattina su tutto il Vicentino, nel pomeriggio sera non è da escludersi qualche piovasco sui monti in un contesto di cielo variabile. Giovedì inizierà la spinta dell'alta pressione africana verso la nostra provincia, tempo stabile, poche nubi pomeridiane, tasso di umidità in aumento, temperature sui 30 gradi in pianura, ci attende un fine settimana dal clima estivo senza fenomeni di rilievo, temperature anche oltre la media, a fa pesante, temperature fino a 32 gradi.